Cala il sipario sulla stagione sportiva della città di Batipaia con una gioia immensa. La promozione in B2 dell'Allianz Inside Batipaia, squadra di pallavolo femminile. Il roster del patron Minutoli, con 35 vittorie su 36 partite giocate, riesce a sbarcare nella categoria nazionale ai danni del Nola, che però potrebbe raggiungerlo con la vittoria in finale. Soddisfazioni anche per le formazioni di basket della Treofan Batipaia, due salvezze sia per la formazione maschile che per la formazione femminile. In particolare il roster femminile, con due vittorie su 30 sferta, continua la sua esperienza nel campionato A1. La maschile invece, sempre tramite play-out, ha mantenuto la Serie B.